Bene, stavo facendo la passeggiata dall'altra parte quando vi ho salutato, però la passeggiata è sempre questa Ragazzi, siamo tornati, sono tornato e andiamo avanti con il capitolo numero 5 Ora dobbiamo semplicemente seguire l'amico Dai Ok, ok, quindi ho un'idea, ma è davvero pericoloso Ora andiamo Ah! Oh, per Dio, mi hanno detto che se mai avessi avvenuto questo flashlight, sarei morto Mi hanno detto tutto, non ho capito perché mi hanno dato questo, se non mi vogliono usare, è poiché Stupido, è stupidissimo questo tizio È stupidissimo Ha tanto da dire Ha davvero tanto da dire, eh Grazie, grazie Dio, stai zitto Ok Questi cosi sono figli comunque Questi cosi sono troppo figli Un esatto duplico di lui Il nepotismo Mi ha dato il peggio possibile Tendendo a tutti gli uomini Tendendo a tutti gli uomini Tendendo a tutti gli uomini Questo muro Eh Eh Ah, da qua ci sono venuto, vero Ah, lì, ok, dai, allora Facile, facile Ma stai zitto Qua impacchettano, giusto? Qua prima li costruiscono E poi impacchettano, esatto, mi ricordavo bene Mi ricordavo bene, ok, qua bisogna scendere Ah, sì Tac, e sono su, perfetto E si può andare avanti Oh, mi dispiace soltanto che voi dobbiate Cioè, dobbiate Che mi stiate guardando giocare una parte di gioco Che ho già giocato E quindi per me non è una novità E quindi magari vi annoia Come cosa Spero di no, però Penso di sì, diciamo Ok, qua Ok, andiamo di qua Tac Tac Da no Ci sono Sì però fai silenzio Ti ho salvato E ora vieni No No Addio Cionni Cionni è morto Qua testano Le cose qua Perfetto Sono arrivato qua Possiamo andare avanti Ok Bene Qua adesso aspetto un atto Perché so già come andare avanti Però in teoria Vedrete Allora Allora Questa è preso al volo Perché li buttano via Però noi dobbiamo mettere Quelli roti Sì Sì Tu mi servirai qui dentro Bene Ora il fatto è questo Praticamente dato che gli ho dato La macchinetta sbagliata La produzione invece di prendere Quelli buoni Cioè Toglie quelli buoni E tiene soltanto quelli defettosi Come ho detto Come ho detto Come ho detto Questo qui è un idiota Mamma mia Travi la tua figlia Nel giorno di lavoro Non si è finita bene E 40 batterie di patate Per il baritone Adesso ho capito che sono bambini Ma ancora Non sono freddo Non sono freddo Ma non sono freddo Non sono freddo Ok Facciamo questo Io l'ho detto ragazzi Che è stupido Quello dizio È stupido Però queste voci Il fatto che comunque Ci sia sempre il robot A parlare con noi Mentre Mentre risolviamo Cioè Indovinelli Più che misteri E Andiamo avanti Nella storia Devo dire Scusate Devo dire Che aiuta molto A fare in modo Che il gioco Scorra come deve Ok Aprete Aprete Ottimo 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 Dai Apri Non ho tempo Da pierce Allora 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 Ah qua Qua c'era un bottone Mi l'ho dimenticato Ok questo mi serve Perché Quel laser lì Quel laser lì Ora ci aiuterà A tagliare E il laser E il laser toglie tutto Toc E tac Ok Ora qua Praticamente Si spacca tutto Perchè Perchè Tagliati i cavi Tutto cade Tutto si rompe E la cosa figa E la cosa figa è che Dove andiamo a finire Dov'è che andremo mai a finire In uno di quei tubi Fighissimi Che si vedono sempre in giro Io lo trovo una figata assurda A questo pezzo Lui se la spassa Eccolo Questo tizio Questo tizio Questo tizio Aperto il laboratorio Bene E ora non facciamo altro Che andare avanti 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 E questa è una stanza Che non si apre Ecco qua Lì c'è Quello Boom E va bene Però c'è un gabinetto Dai Simpaticono Ad ecco che si attiva Il nostro geniale piano Oh No 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 Ok, in due parole qua Non ci posso passare perché ci sono quelli Però posso fare così Questi non mi fanno passare Ma io posso fare così E questo non gira abbastanza in fretta E abbiamo vinto No, no, stop, no, 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 no Wow! Wow! Chegni out, ma! We did it! I'm in control of the whole facility now! Wow! Oh! Look at this! Not too bad, eh? Giant robot! Massive! It's not just me right here I am bloody massive, aren't I? Oh, right, get the estate left! I've got it down! There we go! Lift call! Look at how small you are down there! I can barely see you! Very tiny and insignificant Let me tell you, I knew it was gonna be cool To be in charge of everything Wow, this is cool! And check this out! I'm a bloody genius now! You're using this software, the provision of quota incorrect Please, check the manual I don't even know what I just said But I can find out! Oh, sorry, no, the lid, yes, sorry This body is amazing, seriously I can't go over how small you are But I'm huge! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Uh, actually... Why do we have to leave right there? Do you have any idea how good this feels? I did this! Tiny little Wheatley did this! You didn't do anything She did all the work Oh, really? That's what the two of you think, is it? What? Maybe it's time I did something then What are you doing? No! 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 And don't think I'm not onto you too, lady You know what you are? Selfish I've done nothing but sacrificed a girl, Sierra And what have you sacrificed? Nothing Sierra All you've done is boss me around Well, there, who's the boss? Who's the boss? It's me Ah! See that? That is a potato battery It's a toy for children And now, she lives it I know you Sorry, uh... What? The engineers tried everything to make me behave To slow me down Once, they even attached an intelligence dampening sphere on me It clung to my brain like a tumor Generating an endless stream of terrible ideas No, not listening, not listening It was your voice No, no, you're lying You're lying Yes, you're the tumor You're not just a regular moron You are designed to be a moron I am not a moron Yes, you are You're a moron they built to make me an idiot Well, how about now? Now who's a moron? Could a moron Cut You Into This Pit Ah! Could a moron do that? No Eh, signori e signori Il simpaticissimo moron L'idiota Il cretino È diventato ufficialmente il nuovo cattivo Ahhhh Beh Devo dire che È piuttosto Questo Vabbè In questo momento io ne approfitto per ringraziarvi di aver guardato l'episodio numero 5 E da qui inizia l'episodio numero 6 Ehm Sfrutto l'occasione per salvare Tac Salviamo Tornare alla partita Ok, funziona Ehm Io fermo la registrazione per controllare se l'ha registrata bene E poi andrò a registrare il prossimo episodio Quindi, al prossimo video Bella ragazzi, ciao